...ma in Italia la Siria non parte l'Asia... …ma in Italia... ...ma in Italia... ...tolica gente che possono gli atleti in gara... ...e loro del f Sims... ...sono pregati… I Gini, le progetti già racchiamate, sono pregati di stare al di là la stazionata, altrimenti non potremo andare avanti con le gare. I Gini, le progetti già racchiamate, sono pregati di stare al di là la stazionata, altrimenti non potremo andare avanti con le gare. Duccello e Vico, si prepari Fari Davide e Comori Fransi Vecchio, dice Mosca, puntata di Cipri e Conti.